benvenuti a tutti in questo nuovo video da mobile phone island come ben saprete la versione android m per i nexus è già disponibile sotto forma di preview e le rom lollipop sono comunque piuttosto stabili con i vari aggiornamenti e anche nei vari custom firmware così io invece sono voluto essere controcorrente e ho rimesso la siano gel mod 11 sul mio s3 vediamo come se la cava rispetto a lollipop vediamo subito che versione della siano gel mod 11 stiamo montando e come vedete android 4.4.4 kitkat e la versione è una nightly del 14 giugno 2015 ho messo il kernel boefla che è l'ultima versione stabile di quello ng ho fatto anche un po di overclock e quindi l'ho portato a 1.6 comunque devo dire che dopo essere stato vari mesi su lollipop comunque mi sono trovato bene anche con kitkat perché comunque è molto fluido però se negli altri video vi avevo detto che secondo me la 11 è meglio della 12 ora mi sono un po ricreduto non che la 11 non sia valida e per alcune cose resta comunque più stabile della 12 però comunque le prestazioni dell's3 sia con una che con l'altra sono le stesse non cambia più di tanto magari sulla su qualche rom basata sulla 12 c'era qualche riavvio in più qualche lag in più qui ce ne sono un po di meno però comunque la potenza è sempre quella anche se ho fatto un po di overclock però devo dire che il kernel boefla in questo caso aiuta e non peggiora perché sulla 12 boefla è ancora molto instabile crea molti rallentamenti per esempio e quindi comunque è fluido poi si ci vuole un po ad aprire alcune applicazioni pesanti tipo facebook ma in generale anche un po tutto ci mettono ad aprire nonostante non ci siano tutte quelle animazioni di lollipop che comunque la velocità di apertura è più o meno lo stessa poi un elemento che in cui va meglio kit cat è proprio quello di exposed framework che ci sono molti più moduli rispetto all'hollipop che come sapete la versione ufficiale per la 5.02 esiste però vabbè non ci sono ancora tutti i moduli compatibili invece per la 5.1.1 c'è una versione non ufficiale dove però non funzionano tutti i moduli quindi invece se avete la 11 i moduli compatibili sono molto di più infatti poi come vedete questo è sempre kit cat quindi le impostazioni hanno lo sfondo nero qua ci sono i toggle rapidi poi se vi piace android l o m c'è un pacchetto che si chiama android m che è gratis sul play store si può applicare e si ha un po l'effetto di android lm ecco lo stiamo applicando in diretta che comunque in solito è sempre molto veloce torniamo alla home ci vorrà un po a caricare il launcher però come vedete lo sfondo è già cambiato ecco qua ecco qua e come vedete tirando giù si ha lo sfondo trasparente e quindi è più un effetto android l con lo sfondo di android m che però comunque dal punto di vista estetico sono quasi uguali hanno poche modifiche grafiche e poi il launcher ve l'ho appena detto che è applicazione now modato con il modulo exposed gel e quindi è molto più personalizzabile per esempio qua resta sempre google now anche se forse si può togliere poi per esempio io ho cambiato la griglia quindi ci sta un'icona in più qua infatti la griglia sarà tipo credo 5x5 comunque sono 5 colonne sicuramente poi righe non lo so non mi sembra che avevo cambiato soltanto comunque sarà 5x5 4x5 qualcosa del genere poi qua ho tolto il tasto per attivare l'app drawer e ho messo una gesture premendo facendo swipe verso l'alto no ho sbagliato ecco così e qua come vedete c'è il classico launcher di android kitkat e anche qua ho cambiato la griglia quindi poi facendo facendo dall'alto verso il basso si attiva l'app c'è la tendina delle notifiche e poi mi sa che dopo il doppio tap si dovrebbe bloccare lo schermo comunque per questo video è tutto erano ascoltando delle considerazioni all'alba di android m ormai perchè kitkat è vecchio però comunque è molto stabile quindi ve la consiglio però comunque sono questione di gusti perchè le prestazioni sono molto simili poi qua c'è xposed che funziona alla perfezione su alcune versioni di lollipop no alcuni moduli non funzionano però comunque le differenze di prestazioni sono davvero poche invece per il resto sono questioni di gusti a chi piace il sistema delle notifiche di una versione o dell'altro oppure la gestione delle impostazioni che sono ordinate in modo diverso poi vabbè guardate qua che col tema ha cambiato pure qui però aprendo comunque se hanno la nuova grafica però comunque le impostazioni sono sempre quella della cm11 per questo video è tutto ci vedremo presto in un nuovo video da fabio ciao ciao